Benvenuti a Sipas, buona giornata! Ciao! Passo da Sipas! Passo da Sipas! Ringraziamo la diretta streaming direttamente dal padiglione A. Ed è arrivato con noi anche Jacopo! Oggi siamo tutti ragazzi, siamo pronti? Guardate oggi i prezzi, l'ultimo giorno di fiera sono ridotti. Anche Roby, ormai ci siamo tutti eh! Sempre in Sipas! 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 Sipas!